Buongiorno amiche mie, scusate l'assenza di questi giorni ma sono stati giorni pieni pieni di lavoro e Ascania ha voluto stare con noi anche adesso, sarà un tutorial rapidissimo ma perché vi faccio vedere una cosa stranissima e interessantissima che ho trovato anche una cifra molto economica una trentina d'euro su Amazon ragazzi questa è una piastra che se si blocca è anche ferro ho detto la devo provare per loro perché appunto adesso non mi potete più dire chi non sa fare ricci chi non li vuole fare quindi vi faccio vedere l'effetto perché stiamo andando a una festa di compleanno e se vi piace questo make up è quello che ho realizzato per il tutorial che vi metto domani mattina perché da domani comincia il discorso di Inglot e vi ho fatto un tutorial la temperatura la regolate vedete digitale col più o col meno ok quindi versione piastra quindi ci potete sia lisciare che arricciare se vorresti prendere la parte qui davanti e fare delle onde eccola qua molto molto morbide vedete ma mamma che bruci e no amore sto attenta se io faccio così blocco e quindi mi si mette la parte del ferro io poi faccio questo lascio lo faccio girare dentro dopodiché riapro e questi ancora lo devo fare allora aspetta che mi ribasso faccio questo infilo dentro ok ci dovete aspetta eh mi è sfuggito ovviamente ci dovete stare un attimino perché è sempre un ferro da 30 cioè ferro piastra cioè la cosa carina è questa però è una cosa da 30 euro che come vedete funziona come vedete l'effetto è carino la risblocco e vado qua se l'ho messo a 2,10 allora non è una piastra super potente ma se volete un effetto molto naturale e appunto non e soprattutto vi accomoda la cosa ferro e piastra secondo me questo è vincente per quello che costa insomma questa cosa doppia è veramente carina vedete se fate questo chiudete dentro e poi piano piano cominciate a tirare giù ma piano perché il calore deve rimanere scuoto un po' i capelli questo è l'effetto sembra carino ma soprattutto è la genialata della cosa vi volevo comunicare insomma che esisteva anche questo prodotto buona giornata amiche domani vi metto il tutorial di questo make up grazie a tutti Grazie.